Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice oggi c'è il tema, oggi fate il tema, il tema sui papà, io penso è uno scambio. Buongiorno, 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 io penso è una forte中. Buongiorno, 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 io penso per quanto piano, giù al foglio bianco, io penso è un po' pianto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti